Quando hai dei collaboratori devi anche ascoltare, oggi non per scaricare nessuno, ma se avessi ragionato da come forse dovevo fare, io Zauli non tornava a Teramo, ma non perché ce l'avessi con Zauli, perché reputa che lui fosse un allenatore di Serie B, non di Serie C, per una sua mentalità un attimino meno invadente, un allenatore che forse giocando in categorie tanto in Serie A ha preso una mentalità non troppo di fame che serve con i ragazzi della Serie C. Quindi è pentito di aver ascoltato troppo? Non pentito, forse la mia esperienza doveva prevalere sull'ascoltare perché qui ho fatto un errore, perché lì ci serviva un allenatore con più esperienza per poter far sì che avesse potuto dare alla squadra quello che serviva, una tranquillità, una consistenza e un modo di giocare un attimino più compatto. Vedi, faccio un esempio, vedi l'Avellino, vedi il Trapani che nelle ultime partite ha fatto punti come non li ha fatti le prime in classifica. Tu hai visto Cuttone, giusto, era l'allenatore del Fano, con quale rabbia il Fano agrediva su ogni pallone, ci hanno dissossato. E questo spera che possa portare adesso Golotti? Io lo spero francamente, altrimenti il bilancio è disastrato, disastroso, perché vuol dire che abbiamo completamente sbagliato a prendere i calciatori. Io sono convinto il contrario, penso che noi non abbiamo una squadra così disastrata.